Un luogo immerso nella natura per ammirare le meravigliose campagne del Vallo di Diano e trascorrere una giornata insieme agli animali. Con l'arrivo della primavera in tantissimi stanno visitando a Sala Consilina la fattoria didattica Natura Solidale, un luogo non solo di turismo e svago ma anche un esempio di inclusione e integrazione sociale per le persone con disabilità grazie alla presenza del centro diurno e residenziale Una Speranza. I ragazzi e le ragazze che frequentano la struttura infatti all'interno della fattoria didattica svolgono attività lavorative di vario tipo e prossimamente saranno anche i gestori di un bed and breakfast pensato per ospitare famiglie e persone disabili. Una grande opportunità per i ragazzi per acquisire nuove competenze e inserirsi nell'ambiente lavorativo e sociale del territorio. La fattoria didattica nei soli primi 15 giorni di aprile ha già raggiunto un record di presenze. 100 visitatori, di quei 14 camper che hanno sostato nell'area del grande parco. Le iniziative della cooperativa Natura Solidale però non si fermano qui. Oltre alla possibilità per chiunque di poter trascorrere qualche ora nel parco della fattoria è stata infatti lanciata una nuova offerta dedicata alle scuole con visite agli orti, agli animali e numerose attività come trascorrere una giornata da chef, apicoltore o fornaio. Sostenere questa iniziativa significa dunque non solo trascorrere del tempo nella natura e vivere un'esperienza unica ma anche contribuire a un importante progetto di inclusione sociale e integrazione lavorativa per persone con disabilità.